Si è dimesso dall'incarico dopo essere stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento per false comunicazioni sociali connesso alla sua attività professionale di commercialista. Il presidente di Ammio Puglia, Paolo Pati, ha comunicato egli stesso la notizia. Il procedimento, spiega il numero uno dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capologo pugliese e a Foggia, lo vede imputato al fianco di Alcesta e Marco Cavallari per aver prestato la sua attività professionale di commercialista intermediario abilitato alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese di due scritture private di cessioni di quote di SRL avvenute tra il febbraio e l'aprile del 2018. Tenendo conto del clima politico sorto nelle ultime settimane, precisa Pati, al fine di non mettere in imbarazzo le amministrazioni comunali di Bari e Foggia, ho ritenuto opportuno rimettere il mio mandato nelle mani del sindaco De Caro. Pati ha sottolineato che questo non riguarda in alcun modo la sua attuale attività prestata come presidente di Ammio Puglia S.P.A. e ha ricordato in una nota che nel corso dell'udienza preliminare il PM aveva chiesto che venisse messa a sentenza di non luogo a procedere data la palese evidenza della sua totale estranietà ai fatti. Nonostante tale richiesta, dice Pati, il GUP ha ugualmente ritenuto di emettere decreto con cui ha disposto giudizio e conclude la circostanza mi coglie sereno in quanto in tale sede avrò certamente modo di dimostrare la mia estranietà.